La storia inizia con una giovane coppia, Ash e Marta, che si fermano a una stazione di servizio. Ash è in un furgone a noleggio, dove scorre tranquillamente sul suo telefono mentre ascolta le notizie alla radio. Tra le diverse altre storie, la radio parla di una nuova scoperta. Apparentemente gli scienziati hanno testato con successo una carne sintetica che può sviluppare intelligenza tramite software. Questo trattamento è finalizzato ad aiutare gli amputati a rimettersi in piedi. Nel frattempo, Marta si dirige verso il furgone con una tazza di caffè in ciascuna mano. Bussa al finestrino dell'auto, chiedendo a Ash di aprire la portiera, ma lui è così impegnato a scorrere il telefono che sembra non accorgersene. Solo dopo un bel po' di minuti si sveglia di soprassalto e la fa entrare. Una volta dentro, Marta lo rimprovera per essere stato troppo distratto nei confronti dell'ambiente circostante, e gli ordina persino di mettere il telefono nel vano portaoggetti. Nella scena successiva, arrivano in una vecchia e pittoresca casa di campagna. Dopo aver spostato tutta la loro roba dal furgone, i due si sistemano e Ash torna a scorrere. Marta, che si sta preparando a cucinare la cena, gli fa scegliere tra pomodori o pomodori arrostiti, ma nota che Ash non gli sta nuovamente prestando attenzione. Così, gli lancia un asciugamano e scherzando dice che era per controllare se è ancora vivo. Marta si lamenta che continua a sparire con il suo telefono, ed etichetta la macchina come un ladro. Lascia poi per un po' la cucina da parte e si siede accanto al suo ragazzo. Ash rivela che sta condividendo una sua vecchia foto, in cui è un ragazzino con lunghi capelli rossi. Pensa che i suoi amici online la troveranno divertente, ma Marta non è d'accordo. Pochi secondi dopo, Ash inizia a raccontare nei dettagli il giorno in cui è stata scattata la foto, poiché la ricorda tutt'altro che divertente. Era la prima volta che la sua famiglia usciva dopo la morte del fratello minore, Jack. La famiglia era andata a un safari park, e diverse scimmie salirono sul tetto della loro auto. Nonostante questo, tutti rimasero in silenzio, come se tutta la gioia delle loro vite fosse stata risucchiata via dalla morte di Jack. Ash ricorda che fu sua madre a riaccompagnarli a casa, il che fu sorprendente perché di solito odiava guidare. La mattina dopo, aveva tolto tutte le foto di Jack dal muro e le aveva nascoste in soffitta. Era il suo modo di affrontare il suo trauma, come aveva fatto quando era morto suo padre. Aveva lasciato solo una foto in tutta la casa, la foto di Ash in cui fingeva di sorridere. Commossa dalla storia del suo amante, Martha lo bacia sulla fronte. Si dirigono poi in camera da letto, dove finiscono per avere un rapporto appassionato. Il giorno dopo, Ash dice a Martha di vestirsi velocemente per poter restituire il furgone in tempo. Devono restituirlo entro le 14, altrimenti l'azienda debiterà loro un giorno extra. Tuttavia, Martha dice che non potrà unirsi a lui per il viaggio, perché ha ricevuto un nuovo incarico la mattina presto e la scadenza è lo stesso giorno. Questo turba un po' Ash, ma lui semplicemente la saluta e se ne va con il furgone. Si scopre poi che Martha lavora come illustratrice. Per tutto il pomeriggio, continua il suo lavoro con la massima dedizione. Arriva la sera, ma non ha ancora finito con quello che sta facendo. Nel frattempo, Martha si sta un po' innervosendo perché Ash non è ancora tornato a casa. Prova a chiamarlo, ma lui non risponde a nessuna delle chiamate. Una Martha preoccupata chiama quindi il servizio clienti dell'azienda da cui hanno noleggiato il furgone. Con suo orrore, le rivelano che Ash non ha ancora consegnato il mezzo. Martha impazzisce e contatta immediatamente la sorella, spiegandole l'intera situazione. Teme che al suo amante possa essere successo qualcosa di veramente brutto. In quel momento, un'auto della polizia si ferma davanti a casa loro. Martha apre cautamente la porta, pienamente consapevole che il suo peggior incubo si è avverato, ovvero Ash è morto in un incidente. La scena si sposta poi al giorno del funerale di Ash. Una Martha profondamente sconvolta si siede accanto alla sua amica Sarah. Quest'ultima esprime il suo sincero stupore per quello che è successo, poiché anche lei ha perso il marito in un incidente diversi anni fa. Dice anche a Martha che può aiutarla a iscriversi a un programma che potrebbe aiutarla a superare la perdita del suo amante. Una Martha irritata le dice di smetterla, ma Sarah continua a blatterare del programma. Dopo averne avuto abbastanza, Martha perde la calma e urla all'amica. Dopodiché, torna a casa da sola e pulisce tutta la casa. Va poi in soffitta e osserva alcune delle vecchie foto di famiglia di Ash. Col passare del tempo, la vita quotidiana di Martha continua, ma non è più la stessa. Un giorno, controlla la sua email e scopre che Sarah l'ha iscritta al programma, nonostante non avesse il suo permesso. Martha riceve anche un messaggio dall'intelligenza artificiale del programma, che si spaccia per Ash. Infuriata, chiama Sarah e le dice che è sbagliato usare qualcosa che assomiglia a una persona morta, ma Sarah è convinta che questo la aiuterà a superare il dolore. Il giorno dopo, mentre Martha è immersa nel suo lavoro, improvvisamente sente il bisogno di vomitare. Dopo averlo fatto, prova un test di gravidanza che risulta positivo. Spaventata e sola, chiama sua sorella Naomi, ma quest'ultima non risponde perché è impegnata con i suoi figli. Per tutto il giorno Martha continua a piangere perché si sente senza meta e non sa cosa fare, ma in quel momento si ricorda dell'app di cui le ha parlato Sarah. Disperata per avere qualcuno con cui parlare la prova, e clicca sul tasto tocca per parlare. Con sua grande sorpresa, Ash la saluta amorevolmente e fa persino una battuta. Questo fa scoppiare a piangere Martha, perché i messaggi sembrano così genuini e reali. Dice poi all'Ash virtuale che è incinta del suo bambino. Quando lui risponde che vorrebbe essere con lei in quel momento, lei piange ancora di più. Dopo un po', Martha si calma e riceve una chiamata da Naomi. Sua sorella si offre di andare da lei, ma Martha la ferma, rassicurandola che sta bene. Passano le settimane, e la vita di Martha migliora drasticamente. Sta camminando da sola parlando con Ash al telefono, mentre gli racconta una storia sui ricordi delle loro escursioni e su come si sono incontrati per la prima volta. Qualche giorno dopo, Martha fa l'ecografia e registra il processo per inviarlo al sistema di Ash. Dopo che la procedura è terminata, parlano mentre Martha le sistema nervosamente il maglione. All'improvviso, lascia cadere il telefono e inizia a farsi prendere dal panico. Cerca di parlare con Ash, ma la sua voce non è chiara. Questo la rende incredibilmente ansiosa, e corre a casa per caricare il telefono. Fortunatamente, Ash chiama dall'altra parte e le assicura che non andrà da nessuna parte. Dice anche che possono passare a un altro livello, ma sarà costoso. Nella scena successiva, un enorme pacco arriva a casa di Martha. Lo apre lentamente, e vede diverse sezioni di carne artificiale. Questo la inquieta un po', ma chiede l'aiuto di Ash. Scatta quindi una foto del pacco e la inserisce nell'app. Poco dopo, Ash ordina a Martha di preparare la vasca e di depositargli il pacco. Le dice poi tutto quello che deve fare, e alla fine le chiede di uscire dal bagno e aspettare. Dopo aver aspettato per un bel po' di ore, Martha sente qualcosa dal bagno. Si avvicina lentamente da dove proviene il suono, solo per vedere che il pacco che ha comprato è diventato un vero Ash umano. Lui appare di fronte a lei, e le chiede di prestargli dei vestiti. Martha non riesce a credere a quello che vede e rimane lì sotto shock. Dopo un po' di tempo, lo tocca lentamente e si rende conto che sembra un vero umano. Martha controlla quindi ogni parte di lui, e scopre che tutto è al posto giusto. Questo la travolge di emozioni e ricomincia a piangere. La mattina seguente, Martha si sveglia e si sorprende nel vedere Ash accanto a lei. Si scopre che hanno trascorso l'intera notte insieme. Più tardi, mentre lavora nel suo ufficio, Ashley si avvicina e le chiede se ha bisogno di un caffè. Martha però rifiuta e si scusa, perché non riesce ancora a processare che il suo amante è tornato. Dice al robot che ha bisogno di tempo per abituarsi. Un pomeriggio, Naomi si presenta inaspettatamente alla porta d'ingresso. Questo perché sua sorella non risponde alle sue chiamate da un po' di tempo. Dentro, Martha sente bussare e chiede in fretta all'Andraide Ash di nascondersi in bagno. Sta ancora cercando di venire a patti con la sua esistenza, e non è sicura se presentarlo a qualcuno per il momento. Le due sorelle trascorrono quindi l'intera giornata insieme, parlando di vari argomenti. Naomi dice di essere felice che Martha stia andando avanti, perché ha notato vestiti da uomo nel bagno. Questo però turba Martha, perché sente di tradire il ricordo del suo defunto amante essendo intima con la sua versione fittizia. Dopo che Naomi se ne va, Martha racconta ad Ash l'intera conversazione che ha avuto con sua sorella. Rivela che sebbene Naomi senta di essere andata avanti, in realtà è ancora bloccata nei ricordi del suo amante morto, e con ogni giorno che passa la differenza tra il vero Ash e quello falso diventa sempre più pronunciata nella sua testa. La versione Android non ha bisogno di cibo o sonno, la sua pelle sembra essere eccessivamente liscia, e si comporta sempre come la versione migliore del vero Ash. Martha è persino infastidita dal fatto che a questa versione sembra mancare un neo sulla clavicola. Con il passare delle settimane, Martha diventa ancora più frustrata da questo nuovo Ash. Lui obbedisce a tutto ciò che dice come un robot, e lei inizia a rimpiangere tutte le discussioni che aveva con il suo defunto amante. Quando Martha non riesce a trattenere le sue emozioni, urla al clone di andare via di casa. Dimostrando il suo punto di vista, l'Andraide Ash obbedisce senza discutere ed esce. Il giorno dopo, Martha lo vede in piedi in mezzo al loro cortile. Il chiede perché non se ne va, al che spiega che deve rimanere entro 25 metri dal suo punto di attivazione, che è il bagno. Chiede quindi a Martha se può entrare, e lei ha consente. Quel pomeriggio, decide di portare il clone a fare un giro in macchina sulle alte montagne. Lo conduce in cima e gli chiede bruscamente di saltare giù dalla scogliera. Proprio mentre il robot si prepara a farlo, Martha urla che il vero Ash si sarebbe spaventato. Sentendo questo, il clone si comporta come se fosse spaventato e inizia a implorare di non voler morire. Questo però frustra ancora di più Martha, poiché sa che il robot sta semplicemente elaborando le azioni di Ash, ma non è per niente come lui. Nella scena finale, il film passa diversi anni dopo. La figlia di Martha è ormai cresciuta, e oggi è il suo compleanno. Mentre taglia la torta, chiede che una fetta venga messa da parte per Ash. Martha inizialmente rifiuta, ma su insistenza della figlia alla fine cede. Più tardi, la bambina porta la torta in una soffitta squallida dove alloggia Ash. Il clone ne è contento, nonostante non la mangi. È sottinteso che Martha lasci che la figlia gli parli solo in occasioni speciali. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.